ninja esperto via libera volevai per forza buttarli tu scema lo abbiamo piano b eccola l'inna presa per i pensamenti no vado laggiù da solo nel frattempo devi andare là a prendere una di quelle splendide fiammati 4x4 tu devi stare alla guida io vado recupero Clou e tu ci raggiungi da dietro con l'auto per la fuga si capito capito via adesso che faccio sei grande Nate vado le armi sono scontate dovrei essermi fatto una teletrona salta su forza i sceriffi fra piccolette quella di Sally come farai a farla scendere da quel quello di una bomba questo non c'ho ancora pensato certo che no ma si ci siamo vai nora salta no benvenuti ragazzi con un altro con il prossimo capitolo cioè con l'altro capitolo di Uncharted 2 quindi dobbiamo vedere siamo saliti sul treno ho già visto un tesoro proprio sulla punta del treno cos'è stupa di bronzo in miniatura dovrebbe aver portato clone il primo vagone un tesoro dicimo che Salitura furtiva Salitura furtiva Tutte e due uguali Le cascate Salitura furtiva Salitura furtiva Salitura furtiva Salve ragazzi Devo solo controllare i bignetti Se non veniva quello Non mi avrebbe scoperto nessuno Tantiavola è bloccata Devo provare un altro modo Come on Dove Oh! Forse tu non hai visto niente Ehi! Ah, cavolo, ma hanno scoperto lo stesso Ah! 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 No, no, no. Ok partiamo con questi cosi qua che ci possono mozzare la testa Attenzione! Buonanotte ragazzi! Madonna per un pelo! Madonna non l'avevo visto, peggio che era una cosa normale Ci vediamo ragazzi! Strike! Un blindato! Che diavolo ci fanno con un carro armato? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.